Allora, sono qua in Google Sheet e devo importare un insieme di numeri, ok, nel caso particolare devo importare due colonne, questo file in txc, in csv, che ha due colonne di numeri, ok, sono, le ho esportate da solido, che sono l'alzata angolare del bilanciere del cedente di questo meccanismo a cam, rispetto, e l'altra colonna invece è la variazione angolare della cam. Il problema è che io ho un Google Sheet in opzioni in italiano, dunque hanno il separatore decimale che è la virgola, però il file invece, quello che devo importare, ha il punto. Allora, ho scoperto questa tecnica in pratica, perché se io adesso importo questo qua, quei punti, lui non mi riconosce, non me lo riconosce come numero Google Sheet, e se io lo faccio riconoscere, ma gli dico non riconoscerlo come numero, poi non mi fa i grafici, e dunque devo per forza riconoscerlo col numero, e dunque per riconoscerlo col numero, devo dire che il separatore non è la virgola, ma il punto, ok? Perché è lì quel file che devo importare ha i punti. A questo punto a mio avviso la cosa più veloce è fare questo, andare qua in file, impostazioni foglio di lavoro, e vado a mettere qua, invece che mettere Italia, vado a cambiare, e metto Stati Uniti, e faccio salva impostazioni. queste me le salva solo per questo foglio, a questo punto cosa faccio? Vado a importare, dunque faccio file, importa, ok, carica, e vado a trascinarlo, dall'altro monitor che ho, trascino questo punto, l'ho salvato con punto 1.csv, lo importo qua, lui dice, ok, crea nuovo foglio di lavoro, no, lo voglio aggiungere al foglio corrente, perché se no mi crea problemi, dunque meglio aggiungo il foglio corrente, rileva automaticamente, va bene, perché lui, posso dirgli che la virgola, ma lascio anche così, va bene, converte il testo in numeri, sì, e faccio importadati. A questo punto lui è perfetto, perché mi ha riconosciuto tutto, se io vado giù, il separatore per lui è il punto, io sono a posto, ho riconosciuto. A questo punto cosa faccio? Faccio subito che lo sposto in italiano, nel senso che ritorno qua in file, impostazioni foglio di lavoro, metto qui italiano, Italia, salva impostazioni, a questo punto, lui, magia, mi trasforma gli uni in virgole, e dunque sono a posto, ok? Se non faccio così, ci sono problemi, nel senso, non riesco a importare in modo corretto, e se riesco a importare non come numeri, poi non riesco a graficare tutti questi valori. Dunque, ecco, un consiglio su come importare, come si dice, una serie di numeri che non sono, non hanno il separatore decimale come virgola, ok? Dunque, riassumendo, importo, salvo file, impostazioni foglio di lavoro, lo trasformo in americano, importo, così lui riconosce come numero, a questo punto, riporto, ritorno, qui una volta importato, file, impostazioni foglio di lavoro, lo metto sull'Italia, a questo punto lui mi riconosce e mi trasforma i punti in virgole. Spero di essere stato chiaro e utile, perché a mio avviso questo è molto molto utile. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.